Una standing ovation ha concluso la presentazione di Marty Rion sul Partner 3. Siamo al 68esimo congresso dell'American College of Cardiology e sono stati presentati i dati della stenosi aortica severa a basso rischio. I dati sono stati eccezionali, la TAVI ha ridotto la mortalità, ictus e riospedalizzazione del 46%. Nel gruppo TAVI abbiamo un 8.5% di eventi rispetto al 15% degli eventi con la chirurgia. I pazienti erano tutti a basso rischio con un STS di 1.9% ed il rictus è stato tagliato del 50%. La TAVI ha ridotto il rictus del 50%. È molto interessante notare che nel Partner 3 non vi è stata differenza tra impianto di pacemaker ed insufficienza aortica residua. Per cui oggi possiamo dire che questo quarto studio ha chiuso completamente il cerchio delle indicazioni della TAVI nei pazienti a basso rischio, a rischio intermedio e ad alto rischio chirurgico.